buongiorno a tutti e benvenuti nei maver studios sono sebastiano brunelli e sono qui per presentarvi i nuovi ultra mais della gamma reactor base ci addentriamo qui nel mondo del car fishing e nel mondo delle esche di plastica appunto delle esche finte abbiamo qui appunto dei comodissimi barattolini di mais finto dipato quindi già presentate all'interno del loro dip abbiamo sette aromatizzazioni differenti sette barattolini appunto differenti all'interno di ogni barattolino troveremo quattro chicchi di mais misura xl la colorazione dipende dall'aromatizzazione quindi ogni aroma un colore diverso mentre oltre a questi chicchi xl di colore appunto relazionato all'aroma troveremo altri quattro chicchi di misura standard quindi più piccola sempre in colorazione gialla queste sono esche ideali per essere utilizzate nella tecnica del car fishing nelle presentazioni con bombetta stick mix o qualsiasi altro terminale l'ideale per tutti quei carpisti che vogliono utilizzare un'esca finta bilanciata e aromatizzata e colorata nel miglior modo possibile tutti gli ultra mais della gamma reactor base vi aspettano nei migliori maver point un caro saluto a tutti